salve a tutti oggi andremo a sostituire le spazzole 3G cristallo anteriori di questa seate ibiza e ho acquistato questo modello della bosch basta girare la confezione sulla quale potete leggere tutti i modelli di auto compatibili con queste spazzole 3G cristallo quindi come vedete è inclusa anche le set ibiza prodotte dal 2008 quindi vediamo come procedere per la sostituzione la prima operazione che dovete fare è quella di mettere i 3G cristalli in modalità riposo quindi in questa posizione verticale in modo tale che i bracci quando li sollevano vanno a sbattere contro la carrozzeria quindi non va a rigare il cofano della macchina quindi adesso vediamo come sostituirli le spazzole dalla modalità riposo adesso le solleviamo per poter cambiare le spazzole 3G cristallo come vedete qui sul braccio c'è un pulsante che dobbiamo premere per sfilare verso l'alto la spazzola 3G cristallo una volta che l'abbiamo rimossa andiamo inserire la spazzola nuova inserita in questo senso in modo tale che questo pulsantino andrà a bloccarlo in modo tale che non si rimuoverà la spazzola 3G cristallo la inseriamo ecco fatto abbiamo inserito la prima spazzola nuova mettiamo in modalità riposo adesso operiamo su quest'altra spazzola 3G cristallo che quella più piccolina rimuoviamo la spazzola dal braccio andiamo inserire la spazzola nuova infilando dall'alto verso il basso quando sentite il click vuol dire che è andato in sede e adesso la rimettiamo nuovamente a riposo come vedete qui la spazzola è leggermente usurata si sta staccando il gommino per cui andavano sostituite e vanno sostituite anche nel momento in cui la spazzola va a pulire il vetro lascia delle strisciate d'acqua quindi la spazzola 3G cristallo vi sta dicendo che va sostituita bene spero che questo video semplice vi sia utile per effettuare questa operazione di sostituzione di spazzola 3G cristallo e ci vediamo al prossimo video ciao